Siamo qui al Marca oggi per rappresentare l'azienda a livello globale, come potete vedere ci sono diverse filiere, diverse categorie che noi presidiamo. Abbiamo una mission molto chiara che è quella di portare sulla tavola dei consumatori italiani ed esteri prodotti del made in Italy, prodotti di filiera, prodotti su cui noi controlliamo tutto il percorso dal seme alla tavola. Le filiere più importanti che presentiamo oggi con una vasta gamma di prodotti sono la filiera del grano, quindi quella cerealicola che sicuramente ha nella pasta la sua massima espressione, abbiamo anche il riso, abbiamo i legumi e cereali, abbiamo le tisane, quindi le piante officinali e abbiamo anche il couscous nato dall'acquisizione della BIA che è entrata nella compagine BF circa un anno e mezzo fa. Quindi ci poniamo con un portafoglio molto ampio, siamo a disposizione del trade per sviluppare progetti private label su tutte queste categorie con un'unicità importante, una distintività molto molto marcata che ci può permettere di sviluppare con i nostri partner della grande distribuzione progetti nuovi, innovativi, distintivi dove la filiera è al centro del nostro percorso.